Orrigo Antonello, Otranto Giuseppe, Pagani Pietro, Palermo Maria Paola, Palermo Vincenzo, Passerino Marco Giovanni, Perrotta Peppino, Ramundo Giovanni, Rizzuto Massimo, Domenico, Rossi Carmine, Rossi Sofia, Rota Roberto, Luà Giovanni, Russo Giancarlo, Salemi Antonio, San Gineto Francesco, Scaglione Giuseppe, Scalercio Carmelina, Scigliano Floriana, Scornaienchi Salvatore, Serio Maria Chiara, Sgro Salvatore, Sorace Patrizia, Sprovieri Capia, Sprovieri Capia, Stancato Alessandro, Ferranuova Isidoro, Trotta Giacomini, Torano Giuliana, Bertha Roberto Facciamo l'ultimo Sagarese Salvatore Il vostro collega Bertha vuole fare un intervento brevissimo perché sa che il tempo è di agis Innanzitutto buonasera a tutti voi volevo solamente ringraziare tutta la provincia a noi di tutti ovviamente per l'impegno profuso grazie a loro abbiamo avuto questo attestato parmiando anche parecchi soldi innanzitutto il dottor Carabetta e anche il nostro dottor Natale che ci ha seguito e sopportati a Rossano nel nostro corso grazie di nuovo alla provincia da parte di tutti quelli che hanno conseguito l'attestato e al Presidente Grazie, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Molinari Molinaro Domenico Motta Domenico Carmine Musacco Pietro Musacco Pietro Musacco Pietro